New Trolls, Teresa De Sio, Enzo, Gragnaniello, Eugenio Finardi, Drupi, Audio 2 e Francesco De Gregori sono i nomi dell'edizione numero 13 del Blue Bar di Francavilla al Mare, 5 serate per 5 temi differenti. Abbiamo deciso di dividere le 5 serate con 5 temi differenti. Una prima notte prog, una seconda notte dedicata alla musica che viene da Napoli, una terza a Italia Rock, una quarta al Pop con Drupi, Opera 2 e Audio 2 e l'ultima notte è quella della canzone d'autore con Francesco De Gregori e il fratello Luigi. L'evento è inserito nel cartellone delle manifestazioni estive di Francavilla al Mare che si prepara ad un nuovo pienone dopo il successo del concerto di Antonello Venditti il 1 agosto quando in città sono arrivate 45.000 persone. L'investimento pubblico genera investimento privato e questo vale anche per le manifestazioni. Noi diamo un bel contributo all'associazione Blue Bar ma è anche vero che l'associazione Blue Bar quest'anno ci porta De Gregori, ci porta Teresa De Sio, ci porta Finardi, ci porta tanti nomi anche quello di Marino Bartoletti che verrà qui a presentare quindi diciamo una manifestazione che sta diventando di tutto rispetto anche se si considera a livello nazionale.